Allora, la giornata ha portato a Rescaldina una festa che secondo me a Rescaldina non si era mai vista. Un sacco di gente, ma soprattutto non era una festa proposta da qualcuno, ma una festa costruita da un sacco di gente. Perché tutte le persone che erano in strada oggi hanno fatto qualcosa per questa festa bellissima. Quindi abbiamo avuto gli addobbi nelle strade, abbiamo avuto le persone che hanno recitato, abbiamo avuto i figuranti, tutte persone di Rescaldina che hanno voluto del bene alla loro contrada e al loro paese. E quindi oggi abbiamo fatto davvero vedere che tante parti fanno un corpo solo e una comunità sola. Oggi è stata davvero una festa di partecipazione.